è sempre lo stesso. Sono io che sono cambiata nel corso del tempo e ho imparato a guardarlo con occhi diversi. La prima volta che l'ho visto ero una bambina, sono venuta qua in città con la scuola e la maestra ci ha portato tutti quanti davanti a lui. La prima volta quando l'ho visto ho pensato com'è bello questo giovane uomo con i capelli che sembrano quelli di un angelo e la maestra ci disse è bramante. E poi sono tornata ancora qualche anno dopo. Sono andata proprio davanti a lui. Ho voluto guardare quella parte in ombra. Non ho mai voluto guardare da quella parte. Quando ero bambina vedevo il suo sguardo e mi sembrava perso nel vuoto. Ma l'ho rivisto da adulta. Non era perso nel vuoto. Per me sta guardando suo padre. Sta per affrontare la prova. Sa che farà molto male. Il suo è un corpo di uomo. È fragile. È vulnerabile al dolore. Ma i suoi occhi sono negli occhi del padre. la sua volontà è la volontà del padre. Gesù affronterà la prova urlando, piangendo. Ma è la sua volontà. E adesso ho imparato che posso accettarlo. E ho imparato anch'io piangendo, urlando e accettando il fatto che la vita è fatta di ombra e di luce. Entrambe sono importanti. Come è importante come l'ha dipinto Bramante.